Siamo qui con Margherita Pellegrini, chef di La Piccola Osteria, che ha rappresentato Rovigo ad un concorso regionale, Lady Chef del Veneto. Com'è stata questa esperienza Margherita? È abbastanza emotiva, però molto positiva. Mi ho voluto mettermi in gioco, mettermi a conoscere anche persone nuove, sempre del mio settore. È stata un'esperienza bella, bella che ho portato a casa tante cose nuove e belle, che faranno parte della mia attività. Quello sì. Cos'hai proposto tu in questa gara? Allora, ti è stato chiesto un risotto, un risotto ben fatto, la qualità del risotto era molto molto buona, con la base del pomodoro, che dopo logicamente una la metteva al suo immaginario di ricetta. Io ho fatto l'Italia in tavola, vale a dire i colori dell'Italia, rosso il pomodoro, con una base sempre logicamente di pomodoro, con la burrata e con questa essenza di basilico addizionato con l'olio. È molto molto buono, semplice però buono. Un concorso riservato a sole donne, ma anche nel tuo ristorante avete solo donne? Già, il nostro ristorante, la piccola osteria che si trova qua a Rovigo, è uno staff di solo solo donne e ne sono molto molto fiera. È un ambiente competitivo per le donne l'ambiente della gastronomia oggigiorno? Bene o male, a Vicenza non ho visto grande competizione, ho visto donne molto semplici, che si sono anche aperte nella loro attività, nella solo fragilità. Però ecco, no no, donne proprio veramente speciali, di una semplicità unica anche Giada, quella la vincitrice, molto molto semplice. No, sette belle donne, quello sì, quello sì. Non posso dire che c'è la competizione, non l'ho percepito, ecco, quello lì sì. Grazie. Grazie a voi.